Lilli, finalmente è arrivato il momento che tu e il piccolo Leon aspettavate, quello in cui una nuova famiglia concretizza la vostra adozione. Raccontiamo però intanto la vostra storia un po' meglio. Micaela, da dove arrivano questi bimbi? I cagnolini sono Lilli, che arriva dalla Serbia, e abbiamo Leon, che arriva dalla Reggio Calabria. Lilli è stata trovata investita sulla strada verso l'aeroporto, era praticamente moribonda, non pensavano di salvarla. L'hanno recuperata delle bravissime volontarie e l'hanno tenuta in clinica, dove c'è stata diverse settimane. Alla fine, dopo diversi mesi, sono riusciti a trovare il modo per portarla qui in Italia, dalla Serbia, grazie alla sua associazione Animal Onlus. Da qui il percorso di Lilli è tutta una discesa, perché Lilli è solare, è socievole, è perfetta. Ma si vede, è meravigliosa. Ma com'è meraviglioso anche Leon. Leon purtroppo è stato trovato molto piccolo, che vagava in una vietta di un paesino del sud, e subito non si sono accorti chi è cieco. Ha fatto tre controlli, purtroppo lui non potrà mai più vedere. Quindi per lui richiediamo una super adozione del cuore. A casa è un cane fantastico, non ci si accorge assolutamente della sua cecità, semplicemente in giro magari è un pochino più timido. Ma poi questo suo essere diverso lo rende davvero speciale, come sempre. E poi amici, ma guardate che musettino, ma come si fa? Io sono davvero innamorata di te. Vedrai, la brutta vita che hai avuto da quando sei nato, in un istante cambierà. Allora, amici, vi prego, telefonate per adottare i nostri due meravigliosi Lilli e Leon. Mi chiedi, la diamo il numero di telefono? Certo, 347 059 39 22. Oppure, come sempre, scrivete a portami a casa, a chiocciola dalla parte degli animali.it. Io credo che con questi dolcissimi sguardi, con questi musetti meravigliosi, noi ci possiamo davvero salutare.